Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. Grave investimento nella mattinata di ieri a Minturno, dove per cause ancora da chiarire un'auto in transito tra via Cristoforo Colombo e via Pietro Fedele avrebbe investito alcuni passanti che stavano attraversando la strada, tra cui anche due minori. Immediato l'intervento degli uomini del 118 che hanno richiesto a loro volta l'intervento anche dell'eli soccorso Pegaso. Un vero e proprio accampamento con tende, materassi e tavolini sparsi ovunque e quanto hanno scoperto i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Cellule che nei giorni scorsi sono entrati in azione nella pineta di Baia Domizia. Lo scenario che si sono trovati di fronte è stato sorprendente, l'aria era stata fondamentalmente trasformata in una discarica da incivili che si erano accampati in zona. I carabinieri hanno provveduto così a sfollare queste persone e sul posto è giunto anche il sindaco Guido Di Leone che ha assicurato come si provvederà al più presto alla riqualificazione dell'intera area. L'Italia vince l'europeo e tra i caroselli si esagera incredibilmente quanto accaduto a Minturno dove un giovane di 19 anni senza apparente motivo proprio nella notte dei festeggiamenti avrebbe aggredito tre persone e investito con lo scooter una ragazza e poi non si sarebbe neppure fermato all'alt intimato dalle forze dell'ordine. Il giovane sarebbe stato poi trovato anche in possesso di un bastone per cui sia il bastone che il mezzo a due ruote sono stati sottoposti a sequestro mentre per il 19enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. La notte tra domenica e lunedì pare sia stata molto movimentata un po' ovunque e anche a Fondi dove sono stati verificati almeno due incidenti a margine dei festeggiamenti per l'Italia campione d'Europa. Uno è stato registrato in via stazione dove un pick up si sarebbe ribaltato delle sette persone che erano a bordo del mezzo, quattro sono finite in ospedale tra Fondi e Terracina. Un altro sinistro si è poi verificato all'altezza dell'incrocio di via Arnale Rosso coinvolgendo un'automobile e due scooter. Anche in questo caso fortunatamente non si sono registrate particolari conseguenze per le persone coinvolte. Ieri il rientro a casa a Roma per gli azzurri campione d'Europa con la Coppa. Proprio il rientro però parla a Pontino perché il pilota dell'aereo che ha riportato in Italia la nazionale di calcio è originario di Sonnino. Si tratta di Michele Altobelli, pilota all'Italia che ha avuto l'onore e il piacere di riaccompagnare Mancini, Chiellini e tutto il gruppo a casa con tanto di foto al seguito. La stessa Coppa con la quale Altobelli si è fatto immortalare in cabina di pilotaggio per una foto ricordo che in molti gli hanno invidiato. Covid-19, ieri nuovo calo dei casi in provincia di Latina dopo due giorni in risalita, ieri nuova flessione, un solo caso è stato riscontrato nelle ultime 24 ore in tutta la provincia ed è stato registrato nel comune di Cori, un solo guarito nel bollettino ASL, zero i ricoveri e zero i decessi, calo anche del numero dei vaccini somministrati, meno di 3.000 in un solo giorno. Questa era la nostra ultima notizia, prima di salutarci vi ricordiamo che sul nostro sito web radiocivitemblue.it trovate tante altre news. Un saluto da Simone Nardone e risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale. Grazie.